ragazzi è arrivato il grande momento sono a luci lux di campi bisenzio e sto per entrare a vedere scream 6 la mia saga preferita però se mi seguite sul canale saprete che quando io inizio i video fuori dal cinema vuol dire che non sono da solo e per la prima volta per quel che riguarda scream è qua con me una persona che voi avete già visto su questo canale ma che ho iniziato alla saga e quindi è qui con me per fare il suo pronostico vieni qua billy loomis immagina immaginate fosse stato billy loomis davvero ormai conoscono sono mille volte supereroi e poi creed 3 questa volta scream 6 c'è di la verità era qualche estate fa no non era d'estate che era d'inverno in vera d'inverno qualche inverno fa quando non si pensava uscissero il 5 e 6 allora allora il 5 era stato annunciato o forse no 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 non era stato 4 o 5 anni fa ma anche di più e non era stato annunciato il quinto è vero io te li feci vedere dopo i nightmare così no prima dei nardi non mi ricordo niente ma la memoria prima di sarà nella vita le cose fondamentali sono tre una è la memoria quell'altri due non me ne ricordo comunque siamo a luci per questo sesto capitolo sì sì e quindi no allora che possiamo dire che il quinto tu l'hai visto l'ho fatto vedere pochi giorni fa sì che l'anno scorso non eri potuto venire con me è stata una sorpresa in positivo perché si diceva ma non c'è più Wes Craven che faranno dopo tanti anni hanno preso le redini e l'hanno fatto fuori questa storia invece è stato molto molto bello però ci si domandava e ci si domanda ancora dopo solo un anno cosa avranno in mente e cosa avranno da dire più che altro quello è vero allora ti posso dire tanto per chi mi segue lo sa questo è un video pronostico ci sarà il nostro parere a caldo e poi la mia solita recensione che si dilunga stavo dicendo le recensioni sono state molto positive per ora quelle uscite oltro oceano anche fra i miei colleghi e amici qualcuna un po più tiepida devo dire che chi in anticipo e senza spoiler mi ha rivelato la propria idea al riguardo alcuni sono rimasti un po scottati dal finale mi hanno detto fino alla fine bomba e poi invece c'è chi ha detto che lo spiegone troppo lungo ma lo spiegone negli scream è fondamentale alla fine quando il killer si rivela c'è chi invece lo ha amato quindi vediamo noi che effetto ci farà sicuramente sappiamo che proprio come in Creed 3 non tornava Sylvester Stallone qua non torna Sidney Prescott è stata anche una vicenda un po non molto bella penso anche per i registi perché propongano il ruolo di Sidney a Neve Campbell lei dice che il cachet non era sufficiente poi chissà magari se li meritava anche però chi lo sa infatti chi lo sa se la saga andrà avanti se questo sarà l'ultimo capitolo è partito talmente bene al box office che secondo me non sarà l'ultimo però vediamo cosa abbiano in mente per di più anche a livello metacinematografico ci stavamo chiedendo e che tireranno fuori sempre se tireranno fuori qualcosa io me l'aspetto cioè io rimarrei un po deluso se non tirassero fuori niente qualcosa sì però ecco non pretendo per forza che sia rimarcato cioè andrebbe bene anche una ventata d'aria fresca non che non ci sia però una ventata d'aria fresca se non c'è cioè dal fine di scream si basano cioè il bello di scream oltre alla trama che è sempre accattivante e sorprendente è proprio il fatto che è un grande omaggio al cinema è come se esistesse un paolo innocenti non bello non sarebbe paolo innocenti esatto però tu cosa stavi dicendo prima non mi ricordo più che stavi dicendo che io so già tutto no sconoscerete la mia storia perché ne ho parlato in più video io mi auguro che quel leak quello spoiler che quel cretino perché io non offendo male però non mi piace offendere perché sono persone idiote che meriterebbero il peggio e quindi tirano fuori tutta la parte più burrascosa di me vabbè mi zittisco però speriamo che il film me lo goda lo stesso anche se magari una o più cose le so già poi nella parte spoiler vi rivelerò cosa quel demente mi aveva detto nei commenti quanto è bello offendere quando una persona se lo merita no no se lo merita ma qui non transigo veramente senti no piuttosto diciamo una cosa quindi il pronostico com'è io sono positivo io senti oggi ho rivisto il quinto per farlo rivedere a mio babbo che è con noi a vedere il film per la decima volta una volta al mese perché è uscito l'anno scorso più lo guardo e più mi piace no ma infatti il quinto è stato veramente sorprendente perché io non mi aspettavo fosse di questo livello invece io ti ripeto migliore anche del terzo e del quarto io devo un attimo pensare però però vabbè però insomma comunque ci potrebbe stare certo siamo pronti per entrare nella sala comunque comunque cartani cox gail weathers nel film c'è quel lei c'è ovviamente linus per ovvie ragioni no e quindi è rimasta l'unica l'unica dei film l'unica dei film del passato ragazzi a dopo l'adrenalina è a mille ci vediamo più tardi ciao sidney ti immagini il c che telefona una volta ciao ragazzi senti qual è il tuo film horror preferito come vuoi morire non esiste come però un film horror che si chiama come vuoi morire lo vedrei è vero no il mio film horror preferito scream scream vedi stab 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 ti immagini prima o poi realizzassero uno stab completo al cinema io ora voglio dire pochissimo perché abbiamo visto scream 6 6 dei radio silence e siccome ci sarà la mia recensione so quanto la state attendendo vi voglio lasciare con la curiosità tu che ne pensi devo dire qualcosa posso dire qualcosa o ho paura di essere assolutamente sì devi dire qualcosa no allora mi è piaciuto mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto e non mi aspettavo anche qui che mi piacesse così tanto posso dire in ordine di preferenza lo metto sotto al 5 ok però comunque è continua secondo me un po sulla falsariga di quello che è il 5 per certi aspetti che ora davvero non si dicono però è un film di scream a tutti gli effetti e a regola d'arte quindi non posso dire personaggi interessanti sia vecchi che nuovi la storia prende c'è l'incertezza sempre su chi siano gli assassini chi sia l'assassino e non si può dire il ovviamente di più sul singolare o plurale però sei rimasto soddisfatto te e quindi penamente soddisfatto ok quindi pensi ci possa essere una continuazione io penso di sì penso di sì perché insomma mi sembra che stia funzionando dopo tutto lo spero anche perché visto che per ora stanno funzionando probabilmente riusciranno a trovare ancora cose perché appunto si diceva come farà si inventeranno qualcosa da tutti i punti di vista sia di trama che di omaggi come gli scream ci sarà il metacinema però in realtà questo si può dire che è uno scream a tutti gli effetti quindi questo quindi sei rimasto soddisfatto sì assolutamente se di qualcosa anche te devo dire qualcosa anch'io non di niente nulla abbiamo visto abbiamo visto scream 6 dei radio silence sì devo dire che a luci di campi ci fosse la sala piena si è quasi piena a parte una fila era tutta piena questa cosa mi ha fatto piacerissimo e dicevo no? non vuol di nulla non vuol di nulla perché non si può dire troppo perché io so quanto stanno attendendo il mio parere e quindi ho fatto questa pausa di riflessione e fai un po' rosolare vi posso dire che ci sarà Ghostface si ci sarà del sangue si si vede un po' che scene è vero Ghostface ci sarà del sangue e che il quinto mi è piaciuto tantissimo io voglio dire questo ai miei va bene seguaci poi vi invito a continuare a seguirmi ma strano questo è fatto una cosa strana vero? o famo strano o famo strano perché mi devono seguire va bene perché sai Scream 6 non è come quando si parla di di chi? da capito? di Pierino torna a scuola certo certo si sta parlando di Scream 6 e quindi ciao ciao finalmente posso dirvi la mia ho voluto tenervi un po' sulle spine fuori dal cinema ringrazio Gabriele che da fan della saga l'ho fatto diventare io un estimatore perché io sono diverso lo ringrazio per essere venuto con me ma non vi ho subito voluto rivelare il mio parere perché cioè so che stavate attendendo il mio risponso con molta curiosità ed io non vedevo l'ora di vedere questo film non scherzavo quando prima di entrare vi dicevo che l'adrenalina fosse a mille state tranquilli che questa sarà una parte senza spoiler perché ci sarà poi una parte rivelatrice successivamente dove anche soffermarsi sulla mia invettiva contro degli stupidi che hanno provato a tutti i costi a compromettermi la visione beh vi è andata male purtroppo si è rivelato vero quel mezzo spoiler perché poi non continuai con la lettura di quel commento di qualche tempo fa però torniamo al film dopo aver amato il quinto e con oggi l'ho visto dieci volte perché l'ho fatto rivedere anche a mio padre prima di vedere questo sesto dopo aver amato il quinto mi domandavo ma adesso con un sesto capitolo in uscita a distanza di solo un anno siamo nel 2023 il quinto è uscito nel gennaio del 2022 oddio ma cosa si inventeranno quale potrà essere anche la parodia metanarrativa se prima si erano soffermati sui requel o legacy quel che dir si voglia stavolta sarà sempre importante l'aspetto metacinematografico non ho più aperto i commenti su youtube perché volevo evitare di imbattermi in spoiler ma a persone fidate ho chiesto fatemi sapere la vostra dopo aver visto il film quindi oltre che messaggi da amici e colleghi mi sono arrivate anche delle recensioni da parte di persone che qualche volta sento su instagram una delle recensioni penso più belle e non del tutto positiva è stata una che recitava questo film come se fosse una grande schiacciata ha usato questo termine per riferirsi insomma avete capito bellissima con dei preliminari stupendi ma poi alla fine entra nella stanza il vostro fratellino quindi sia lui sia altre persone non erano rimaste soddisfatte dal finale chi mi diceva ma c'è uno spiegone troppo dilatato effettivamente lo spiegone in screen c'è sempre stato è un marchio distintivo fatto sta che il film è iniziato la sala era quasi del tutto piena e mi fa piacere non tanto per quei tre bambini che avevo accanto a me che vi giuro innanzitutto non sarebbero mai dovuti essere lì essendo un film vietato ai minori di 14 anni forse solo con me anni fa forse solo con me e vigeva l'obbligo di non fare entrare i minorenni quando andai a vedere so 3d no non hai 18 anni ne avevo 14 ma remma e invece questi tre tutto il tempo al cellulare io praticamente quando con lo sguardo mi voltavo un po' verso sinistra vedevo loro che giocavano ai giochini al cellulare vabbè chi non ha pane abbia denti e viceversa comunque il film inizia Scream 6 la scena d'apertura quanto è importante la scena d'apertura in uno Scream avete sentito che il mio amico è rimasto colpito dal film e non sapete quanto a me proprio dentro mi faccia male dovervi dire che questo film non l'abbia trovato bello lo so già vi verrebbe voglia di chiudere il video però ascoltatemi attentamente lo sapete quanto abbia amato il quinto quanto mi sia piaciuta la saga in toto anzi quanto anche pensassi di rivalutare la classifica mettendo ridimensionare per meglio dire mettendo il quinto sul podio però dicevo vediamo cosa riusciranno a fare i Radio Silence se è stata solo una botta di fortuna oppure se realmente hanno saputo portare avanti l'eredità di Wes Craven io devo dire che questo film non l'abbia trovato bello dignitoso perché in realtà c'è un semplice motivo è straordinario cioè non può essere bella una cosa che è bella amplificata per dieci Scream 6 è la conferma che tutti stavamo aspettando i Radio Silence sono perfetti per dirigere questo franchise e dategli ora in mano qualsiasi altro capitolo perché se dopo il quinto avevo paura nonostante mi avessero sorpreso con VHS con Finché morte non ci separi adesso ho non dico la certezza perché si può sempre sbagliare ma dopo due film così riusciti io credo che siano i registi più adatti per portare avanti questa saga e parlo di saga perché nel film la parola saga sarà importantissima non voglio dirvi troppo anche perché se mi avete seguito su YouTube nel corso degli ultimi mesi quante speculazioni ho fatto sia in video appositi sia in dirette vedendo il trailer ci sarà una setta ma Stu tornerà non tornerà come sarà un film senza Neve Campbell ne abbiamo parlato anche prima con Gabriele io credevo ci potessero essere molteplici assassini l'ereditarietà del male della maschera e perché questo ghostface dovrebbe essere diverso e la maschera deteriorata come quella di Michael Myers in Halloween di David Gordon Green e il c-c-c-ca-ca di Jason Wuris Memorial a venerdì 13 che subito ascoltavamo al termine del trailer insomma vi dirò poco però fatemi confermare quanto James Vanderbilt e Guy Basic avessero ragione quando sostenevano che avrebbero sovvertito le aspettative perché questo film mantiene l'identità di tutti gli scream precedenti ma rinnovando la saga con delle cose mai viste prima che riescono a sconvolgere coinvolgere e al contempo appassionare e intrattenere per di più l'aspetto anche sarcastico è presente ma non a livelli troppo esagerati stavolta si vira anche verso il teen e questa cosa me ha soddisfatto pienamente perché ricordiamo che anche il primo scream Kevin Williamson alla sceneggiatura Kevin Williamson è anche importantissimo per Dawson Creek è importantissimo per The Vampire Diaries quanto era importante lì l'aspetto sentimentale quando torna in questo horror in questo scream 6 io non potevo far altro che apprezzarlo questo non vuol dire che manchi l'ironia ma non è dilatata così come si è presente la metanarrativa ma non vi aspettate che ogni secondo prenda il sopravvento c'è la giusta via di mezzo fra l'importanza dei film e del cinema ma allo stesso tempo un ritorno al passato che è fondamentale con dei anche momenti in cui è importante pensare a come il passato possa influire sul presente per far sì che forse si verifichi un futuro differente dove salvarsi la pelle è difficile parlarne senza spoiler ma posso dire che i personaggi che ho rivisto volentierissimo da Sam che è la mia preferita Melissa Barrera Tara Jenna Ortega ma così come Nindi come Chad tutti loro io già li avevo amati nel quinto più volte vi ho detto quanto la scelta del cast fosse perfetta vi assicuro che qua hanno ancora di più un'introspezione accurata molti si erano lamentati che nel quinto questi personaggi non fossero più di tanto approfonditi io non sono d'accordo perché io li ho amati più di quelli del quarto per dirvi Kirby lo sapete che ritorna è una cosa già dichiarata la vediamo nel trailer però io non ho mai e dico mai sentito la mancanza di Sidney Prescott che con secondo me delle battute ad hoc viene messa fuori scena cosa che non sono riusciti a fare con Sylvester Stallone in Creed 3 qua è comprensibile il perché non ci sia ma anche qua non voglio dirvi di più e ci soffermiamo su queste nostre conoscenze con il ritorno di Gail Weathers al contempo conosciamo anche nuovi personaggi ad esempio abbiamo Joss Segarra che è Danny questo vicino di casa a New York perché ci troviamo nella grande mela come anche il trailer ci aveva mostrato i poster ci avevano ormai fatto capire e i nostri protagonisti stanno sempre insieme cercano di difendersi come una famiglia poi a un certo punto inizieranno degli omicidi e quindi Ghostface è tornato come fare cosa fare conosceremo anche Queen conosceremo Jason conosceremo Ethan conosceremo dei nuovi dei nuovi personaggi secondo me ben caratterizzati e anche quelli che vengono approfonditi di meno potrebbero avere delle chance nel caso la saga continuasse di essere in maniera introspettiva approfonditi maggiormente nei futuri capitoli ma non ce n'è stato uno che mi abbia fatto dire questo bo trascurabile è un film che dura due ore e poco più se non erro è il film più lungo del franchise di Scream e vi posso dire che sia il più violento il più cattivo dove realmente troviamo il ghost face più spietato poi vi posso dire che come Scream dei Radio Silence andava ad omaggiare il primo capolavoro di Wes Craven del 1996 questo Scream 6 va a omaggiare Scream 2 non è uno spoiler questo ricorderete che nel secondo capitolo sempre splendido che arrivava proprio vicino secondo me al primo ma senza sorpassarlo nella mia classifica ricorderete che lì ci trovavamo in Ohio al Windsor College qua invece ci troviamo a New York in un altro college e poi ci saranno tante altre citazioni al secondo capitolo ma non solo prima di vedere Scream 6 spero vi siate ripassati tutti gli Scream usciti fino ad ora vi posso dire che la componente anche in questo caso action è presente è uno degli Scream con dei momenti più adrenalinici di sempre è uno Scream dove la città la viviamo la respiriamo e seppur New York sia così grande Ghostface ti fa capire quanto tu possa essere in pericolo ovunque anche se magari sei a una distanza incredibile da lui Ghostface è onnipresente in dei momenti pensate sembra sovranaturale era una teoria ma il film parla di teorie è un film che non tralascia ciò che è girato sul web in questi anni Matt Bettinelli Holfin e Tyler Gillett così intelligentemente sarcasticamente ironicamente riescono a riprendere tutto quello che c'è stato e a riuscire ad inserirlo in un film che non vi farà rimpiangere di aver speso i soldi del biglietto ma che anzi se almeno poi la pensaste come me avreste subito voglia di rivedere io non vedo l'ora di tornare in sala di poterlo osservare ancora più nei particolari perché dopo una prima visione sono esaltato resta da capire se anche dopo le prossime come proprio è accaduto col quinto sia convinto della postazione in una classifica ipotetica che mi sto facendo in testa che non vi rivelo perché ora il mio parlare è dettato anche dalla fuga dall'amore per questo film straordinario che ho finito di vedere Scream è una delle poche saghe horror che arriva al sesto capitolo continuando ad essere riuscita continuando ad essere degna di nota un altro personaggio decisamente accattivante interessante è il detective interpretato da Dermot Mulroney che è un attore che già ha un volto che riesce sin da subito a coinvolgere lo spettatore è un personaggio di cui vorresti sapere di più e quindi c'è una ricerca accurata sulla scelta del cast fa sempre piacere rivedere Gail Weathers non vi rivelo se la si veda troppo poco se la si veda molto dovreste vedere il film per scoprirlo ma anche a livello fotografico a livello di montaggio è un film più serioso è un film più cupo dove l'ironia c'è ma in maniera meno palese ed è un film dove la violenza si fa sentire così come sono importantissime e belle le citazioni al cinema horror non solo internazionale ma non vi dico di più state molto attenti detto ciò che posso dirvi di più che Carlo Valli a doppiare Ghostface sia sempre inimitabile sia fantastico le musiche di Brian Taylor fanno il loro lavoro in maniera egregia ma non pensate di non risentire i temi storici ma forse questo è già un qualcosa che vi sto rivelando rispetto a quello che dovrei dirvi senza esagerare quindi io adesso passerò ad una parte spoiler ma non prima di avervi chiesto di farmi sapere la vostra nella sezione commenti e ovviamente contrassegnate con la scritta spoiler lasciando un po' di spazio nel caso voleste dirmi la vostra riguardo e discutere anche con altri utenti perché come ben sapete io adoro la mia community su youtube specialmente quella che sono riuscito a creare diamanti di questo franchise quindi un abbraccione un bacione al box office Scream 6 ha esordito benissimo vediamo dove si fermerà tanto questo è il primo di tanti video a riguardo figuriamoci ce ne sarà da discutere quindi vi abbraccio forte è assurdo che abbia aspettato un anno e che queste due ore poco più siano già finite già mi piacerebbe essere ancora in sala per potermelo risparare da principio però adesso è arrivata l'ora delle rivelazioni dunque partiamo dal presupposto che ve l'ho detto prima purtroppo mi ero imbattuto in uno spoiler che un tizio pensando forse anche di far cosa gradita mi aveva lasciato sotto ad uno dei miei video su youtube dicendomi ora vi posso dire qual era questo famoso spoiler sai Paolo che è uscito un video su youtube in cui vediamo che gli assassini sono tre e uno è il detective io sono riuscito a leggere solo il primo rigo poi ho maledetto chiunque ho eliminato il commento e bannato questo idiota e sì mi permetto di offendere io sono sempre stata una persona molto anche buona in questo ho sempre abbassato la testa non ho mai dato risalto a queste persone così misere quando è che mi è venuto il nervoso eclatante quando vabbè in parte al cinema nel momento in cui mi sono reso conto che questo spoiler era vero seppur non sapessi le motivazioni e non conoscessi le identità degli altri due killer ma in maniera ancora maggiore nel momento in cui mentre stavo tornando a casa ero in macchina con mio padre e il mio amico ho aperto youtube andando a leggere tutti quei commenti che avevo lasciato in disparte in queste settimane perché da più di dieci giorni io avevo continuato a caricare video su youtube ma non ero più tornato fra i commenti e in mezzo ripeto ad una community fantastica dove persone non solo per scream come al solito parlavano discutevano dicevano la propria su tanti film c'erano degli emeriti imbecilli perché questa volta mi sento di offenderli perché se lo meritano e devo dire che mi faccia stare meglio perché fino a che tu una volta spoileri mi fai arrabbiare perché è la mia saga preferita ma quando io mi devo ritrovare in macchina a cancellare più di dieci quindici commenti creati da profili falsi in cui non solo si ripeteva quello che vi ho detto poco fa ma anche che il film inizia con Samara Weaving che muore inizialmente scopriamo chi sia il killer e bla 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 che si toglie la maschera poi invece sul finale scopriamo che i killer siano tre che siano tutti imparentati con Ricci e commenti così 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 ne ho cancellati non sapete quanti specialmente era il solito utente ma c'erano anche nomi diversi e a me dispiace per chi magari ci sia imbattuto in queste settimane magari volendo vedere un mio video e trovandosi lì sotto fortunatamente alcuni erano andati a finire nei messaggi da rivedere youtube alcuni commenti li seleziona e li mette fra quelli da rivedere quindi io posso scegliere se pubblicarli o meno ma altri invece no quindi queste persone ho dedicato loro anche un post su facebook dovrebbero innanzitutto imparare a fare l'amore a fare qualcosa di più costruttivo nella vita a studiare un po' a guardarsi un film senza quella voglia di compromettere la visione altrui perché mi spiegate mi rivolgo proprio a voi cosa vi lascia il rovinare la visione altrui vi sentite più forti vi sentite fighi ma chi pensate di essere cioè voi non vedete l'ora che un film esca che si trovino dei leak per rivelare cosa accade e poi vi cresce il pisellino di un centimetro in più ogni volta che fate spoiler cosa vi succede vi danno un premio ma eppure il premio per i miglior coglioni di sempre l'avreste già dovuto vincere una volta che vostra madre vi ha messo al mondo quindi non riesco a capire cosa vi porti a fare ciò ma ce l'ho con voi in un modo incredibile siete proprio la feccia della cinematografia della peggior specie non meritereste di stare sui social ma lo sapete no? utilizzate dei nickname falsi perché io ci metto la faccia nel dirvi che siete degli stronzi però voi invece utilizzate i nickname falsi perché guai a metterci la faccia dimmelo mi chiamo Pinco Pallino e ti ho spoilerato il film non ti faccio niente niente però almeno figuriamoci se mi metto a litigare con qualcuno per un film ma almeno vi direi che sareste degli ottusi delle persone piccole piccole delle persone che forse l'unica cosa che ando a fare nella vita è quella di stare dietro ad uno schermo attendendo che esca una rivelazione per spifferarla in giro bella vita di merda comunque perdonatemi ma ho una rabbia incredibile magari poi mi pentirò anche per queste cose che ho detto perché come tante altre volte in cui mi hanno rovinato le visioni di certi film avrei potuto abbassare la testa e dire pazienza a parlarne do solo loro più risalto magari questo vi farà godere perché vi eccitate con la nullità che siete però questa volta non ce l'ho fatta quindi veramente niente siete delle persone stupide e io il film me lo sono goduto lo stesso perché nonostante mi abbiate spoilerato del detective che fosse il killer non sapevo le dinamiche non sapevo come sarebbe stata la scena d'apertura sono rimasto colpito dalla poetica dei radio silence che torna a farsi sentire come in maniera ottimale secondo me anche vadano ad omaggiare Wes Craven e soprattutto Scream 2 non solo torna il tema musicale di Linus ma se pensiamo anche solo all'inizio con Samara Weaving io me lo sentivo che sarebbe stata uccisa che esce nel vicolo io per un attimo ho pensato vuoi vedere che hanno ritirato fuori il riproduttore vocale del terzo che cambiava tutte le voci ed invece era l'assassino in questo vicolo appare uccide la grande Samara Weaving che era la protagonista di Finché è morte non ci separe ma la stessa non dico attrice ma il personaggio da lei interpretato viene citato nella metro perché c'è una vestita come la protagonista di Finché è morte non ci separe comunque viene accoltelata viene uccisa una scena crudele una scena spietata e per la prima volta il killer si toglie la maschera e quindi noi lo vediamo in faccia dopo nemmeno dieci minuti ed era interpretato da Tony Revolori era Jason che tanti di voi conosceranno per Spider-Man Homecoming per Spider-Man Far From Home torna a casa e si mette in contatto con un altro Ghostface e quindi ho detto ok capiamo che voglia portare avanti il film di Richie e che il prossimo step sia quello di uccidere Tara e Sam lì a New York che sono ad una festa perlomeno Tara è una festa Sam arriverà più tardi Sam arriverà più tardi e ho detto ok la questione setta sembra che l'abbia azzeccata vi ricordate quando parlavo del trailer si vedeva questa stanza con tutti i trofei le varie teche con i costumi di Ghostface effettivamente all'inizio sembra proprio così l'ereditarietà del male credevo che fossero tutti emulatori e già di per sé il voler continuare il film di Richie poteva essere una soluzione interessante da portare avanti ed invece no perché c'è uno dei momenti più belli di tutta la saga di Scream in cui arriva questo Ghostface che fa trovare morto quello con cui pensava di parlare Jason l'altro ipotetico serial killer emulatore lo fa trovare a pezzettini nel frigorifero e vediamo per la prima volta questo Ghostface con la maschera deteriorata che lo uccide dicendo chi se ne frega dei film cioè pensate la rivoluzione io ho sentito dire in tanti che ma no non può succedere che in Scream si metta da parte il cinema ma il cinema non è stato messo da parte la componente metacinematografica c'è e secondo me non è nemmeno così ridotta all'angolo o al minimo cioè semplicemente se ne parla ma per una buona volta visto che si vuole sovvertire le aspettative come avevano detto gli sceneggiatori si parla di un Ghostface che i film li mette da parte che ha altri motivi per uccidere del resto ragazzi in Scream 2 cosa gliene fregava la signora Loomis a Debbie Salt del cinema lei lo voleva fare per pura e semplice vendetta così come qua torna la vendetta è tutto di un omogenio anche il finale che ho sentito criticare per me invece è incredibilmente ben riuscito tutto torna perfettamente cioè il personaggio innanzitutto di Wayne del detective è perfetto io lo sapevo già ma quanto è accattivante ma quanto è bello come personaggio non mi avessero spoilerato questa cosa non so se avrei pensato a lui da un lato forse sì perché in tutto il film non si ha mai il dubbio che possa essere l'assassino solitamente i Scream sono tutti sospettati non si fa mai riferimento alla sua probabile colpevolezza però al contempo avrei potuto pensare magari è il sostituto di Linus che fanno cioè mi uccidono lo sceriffo che il nuovo sceriffo il nuovo detective perché in realtà è Ghostface mi sembrava strano però io vi posso dire che mio padre Gabriele il mio miglior amico tutti e due Gabriele un pochino sì mio padre non pensava assolutamente che potesse essere il detective l'assassino quindi ditemi la vostra io per tutto il film credevo potesse essere Chad perché non è mai successa una cosa del genere ma immaginatevi se piuttosto che rendere il kill un nuovo personaggio come al solito fosse uno di quelli che già conosciamo prima o poi dovrà succedere mi dispiacerebbe come cosa lo so già però prima o poi dovrà succedere perché sarebbe intelligente c'è anche proprio quel gioco di anche quando Ghostface chiama Gale Weathers in quella scena bellissima in casa con l'inseguimento e con Gale che quasi ci rimette la vita c'è quel gioco a livello di scambio di battute sul Sidney se fosse stata Ghostface sarebbe stato assurdo quindi si prendono in giro anche le teorie del web perché veramente ci sono alcuni che la vorrebbero come Ghostface ma voi amate Scream o non lo so a questo punto Maureen Prescott deve essere l'assassina e poi Linus era il più amato dai fan ma tu Gale Weathers che non sei mai stata la protagonista quanto è bella quella scena e stavo dicendo il finale in cui scopriamo che ci fosse una famiglia intera contro Sam contro insomma tutti i protagonisti perché perché il detective era il padre di Richie l'altro ragazzo quello che sembrava ingenuo Ethan quello che sembrava il verginello della situazione che non avrebbe potuto far male ad una mosca anch'esso era figlio del detective nonché fratello di Richie così come Queen creduta morta come Billy Loomis nel primo Scream che invece torna nell'atto finale un allegro quadro di famiglia pronto a imbattersi con tutta la furia contro Tara contro Sam e contro i sopravvissuti il finale nel cinema con le varietè che è bellissimo ragazzi già io ho amato la prima volta in cui entriamo là dentro e mi sono divertito solo ad una visione perché l'ho visto una volta a identificare tutte le cose e l'abito di Casey Becker e l'abito di Steve Hort anche con la bocca tappata e poi il televisore dove è morto Stumacher ma anche lì è morto o non è morto perché l'intelligenza di Scream 6 è che gioca anche sulle teorie del web come vi ho detto e quindi quando Kirby e Mindy si mettono a parlare e fanno capire la loro conoscenza degli horror ironizzano anche su questa teoria inizialmente visto che si parla di un ghostface diverso seppur questa scena sia stata tagliata dal film poteva anche essere stup perché fateci caso è bellissimo che su ogni scena del delitto siano lasciate delle tracce dei precedenti assassini le maschere di Ricci che ha usato Ricci quindi il DNA di Ricci di Ember e poi anche quello di Jill Roberts quello di Charlie e quello di Roman Bridgers forse avrei preferito che a questo punto lasciassero anche le tracce di Debbie Salt di Mickey fino ad arrivare al gran finale però effettivamente è una piccolezza questa già ho apprezzato rivederli nelle fotografie non mi aspettavo ci fosse ancora Billy Loomis pensavo che il pensiero che aleggia del padre serial killer nella mente di Sam sarebbe potuto essere ripetitivo ed invece è gestito benissimo in maniera efficace cioè si vede poco ma quel poco che si vede aiuta a farci capire anche un'ereditarietà della maschera questo bisogno di uccidere che potrebbe essere portato avanti perché quanto è bello il momento in cui sul finale si sono tutti salvati anche Chad proprio come Linus nel 2 si torna agli omaggi del 2 Sam prende la maschera è come se sentisse un richiamo è come se in Freddy vs. Jason quando uccidi 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 e quanto è bello quel momento lei getta la maschera in terra ma in un ipotetico settimo capitolo lei questa sete di sangue la vuol portare avanti lo dice anche al dottore al suo psicologo ma avete visto come si impaurisce poi che fine fa dico che fine fa perché qua le morti sono bellissime ma pensiamo solamente all'inizio nel vicolo pensiamo alla scena in casa con Jason pensiamo alla scena in cui bisogna scappare dalla stanza passando per questa scala da una finestra all'altra il personaggio di Danny che tra l'altro lo chiami Danny come Danny Rowling colui che ha ispirato Vossface se avete visto il mio video che parla della storia vera dietro a Scream saprete che Danny Rowling era l'artefice di tutto ma è un altro video lo potreste trovare sul mio canale spulciando un po' indietro pubblicità vi dicevo quella scena lì quanto tiene intenzione tu ti interroghi ma perché la maschera deteriorata e poi scopriamo che fosse la maschera di Billy Loomis perché bisogna tornare alle origini bisogna tornare all'inizio bisogna tornare a far capire quanto è il passato torni a prendere il sopravvento torna la vendetta la scena in cui anche Anika si chiamava se non ricordo male muore cadendo dalla scala perché Ghostface dietro comincia a muoverla a scuoterla lei cade giù la fidanzata di Mindy Mindy è un altro personaggio che adoro mi fa piacere non sia morta ma quanto è bellissima anche la scena sulla metropolitana Scream che ha sempre omaggiato Halloween che si svolge ad Halloween questa volta e quindi ci sono tutti truccati Kid a Michael Myers e poi abbiamo Eraser e poi abbiamo Finché è morto e non ci separe ci sono le bambine di Shining e chi più ne ha più ne metta c'è Freddy Krueger insomma chissà quante quante citazioni chissà quanti omaggi ho perso ad una prima visione ma quella scena lì in cui Ghostface appare come un fantasma e tenta di uccidere Mindy è bellissima ad un certo punto ho cominciato a pensare che Ethan Jack Jack Champion bravissimo forse quella che mi ha convinto meno è Queen se dovessi dire quali dei tre Ghostface quale mi è piaciuto mi ha lasciato di meno però allora come idea è geniale la famiglia che si vendica presi singolarmente un po' come Ember non mi aveva fatto un pazzire per quanto mi piaccia qua potrebbe essere Queen a differenza di Ethan e di Wayne Bailey che invece è fantastico mi è piaciuto tantissimo il vedere i film che aveva in maniera amatoriale registrato Ricci e qua si omaggiano tutti anche quegli stab che troviamo su YouTube se voi andaste a cercare su YouTube trovereste mille di questi filmini brutti fatti male sul web torna ovviamente read right hand come può mancare torna anche la storica musica d'accompagnamento dell'entrata in scena di Linus quando si riflette si ripensa a Linus non ho mai sentito la mancanza di Sidney Prescott sicuramente tornasse in futuro anche con Mark Kincaid sarei felice perché anche il personaggio di Mark Kincaid del Detective lo rivedrei con molto piacere però dicendo che sia scappata per proteggere le figlie in un luogo sicuro beh mi basta il fatto che Ghostface la citi anche successivamente mi basta è intelligente poi ripeto c'è questo aspetto teen questa love story che va a nascere fra Chad e e e Tara Jenna Ortega bravissima io penso che anche il successo di mercoledì possa portare più persone in sala mi è piaciuta tantissimo non mi ha dato fastidio l'aspetto teen io sono per questo un romanticone mi piace questo aspetto più caldo e appassionato come direbbe Billy Loomis perché come era lui con Sidney Prescott erano caldi e appassionati comunque che riecheggia nel film piuttosto che l'ironia troppo marcata mi sta bene cioè preferisco di gran lunga questo aspetto qui che un fanculo Bruce Willis e il poliziotto che muore quindi cosa vi posso dire Ghostface con il fucile a pompa scena molto adrenalinica ci sono degli inseguimenti ci sono anche dei momenti in cui lo ripeto la metacinematografia è fondamentale quando Mindy spiega le nuove regole questo è un seguito di un riquel e qua possono morire tutti e cita un sacco di nomi da Laurie Strode a Nancy Thompson a Tony Stark addirittura perché qua siamo in un sequel di un riquel quindi ci si vuole rifare forse al secondo step ma con qualcosina in più quindi c'è più budget ci sono più morti ci sono più uccisioni violente c'è più cattiveria ce lo insegnava Randy qua è tutto amplificato i personaggi di un tempo di Scream sono qua evocati onorati percepiamo come Scream sia una delle poche saghe che tutt'oggi riesce a sorprendere a colpire a non lasciare scampo a qualsiasi altro serial horror perché Scream non è una saga horror è la saga horror c'è anche una scena post credit in cui si ironizza sulla presenza di scene dopo i titoli di coda con Mindy una scena che viene estratta proprio dal momento in cui lei si relaziona al parco con gli amici e quindi mi ha divertito assolutamente e spero veramente che ci possa essere un seguito a questo punto se dopo il quinto dicevo beh hanno concluso bene ogni cosa anche il fatto che Gayle Weathers avesse detto non scriverò un libro invece l'ha scritto quando lessi queste dichiarazioni sul web disse boh ma perché invece è molto anche intelligente mostrare come realmente si anche forse andando contro se stessi si voglia speculare su degli accaduti come quelli accaduti a Usboro per guadagnarci alla fine era il lavoro di Gayle Weathers e si cita anche il famoso no cazzottone o schiaffone che più preferite fra il primo e il secondo Scream e qua inizialmente Sam cerca di colpirla e lei lo schiva perché ormai ha imparato ma nel frattempo come proprio Tara sparava e colpiva alla fine di Scream 5 l'assassino ecco che qua colpisce con un destro Gayle Weathers Gayle Weathers che è protagonista di questa scena a casa lei è lì col nuovo fidanzato c'è un grande omaggio a Linus e la vedevamo già dal trailer anche a livello di regia i Radio Silence sono bravissimi con questo tizio che viene preso proprio sullo sfondo non lo vediamo nemmeno in modo chiaro viene portato via e lei che deve che deve fuggire dall'assassino e stava quasi per non solo ucciderlo ma anche togliergli la maschera ma lui la coltella talmente tante volte che sembra quasi morta però fortunatamente poi arrivano in salvo di Gayle gli altri ragazzi e quindi fortunatamente lei si è salvata così come Chad non me l'aspettavo pensavo che proprio per onorare Scream 2 o Chad o Mindy lasciassero le penne perché sono i nuovi Randy in realtà non è stato così ma quanto è bello l'epilogo in cui vediamo due Ghostface per la prima volta che accoltellano Chad cosa non è quella scena a livello proprio di sequenza in un film horror a livello di messa in scena a livello di realizzazione ci sono dei momenti che sanno essere spaventosi che sanno essere veramente coinvolgenti e poi con sullo sfondo le immagini dei fan film di Richie la spiegazione dei killer non è uno spiegone è il classico esagerato è il classico spiegone dei film di Scream che ci sta bene non l'ho trovato né frettoloso né tirato via e poi c'è il momento in cui Sam con il coltello del padre dopo aver visto le visioni di Billy inizia ad accoltellare cioè veramente ci sono dei momenti meravigliosi quando proprio trafigge nella bocca Ethan e gli gira il coltello dentro e poi dopo quando si inizierà con Ethan morto a uccidere gli altri restati in vita anche Tara anche Tara parteciperà a questa carneficina finale e poi arriviamo al momento per me più bello di tutto il film in cui suona il telefono del detective è Sam con la voce di Ghostface che ha preso il costume del padre dalla teca e uccide il detective con il vestito di Ghostface del padre io ero lì in sala che godevo che non stavo fermo mi ero alzato dalla poltrona cioè veramente ero ero agitatissimo e poi quando ad un certo punto gli dice voglio dimostrar mio padre era un serial killer ma io sono migliore ho detto no no perché nella vita vera è ovvio una persona va in carcere ma in scream bisogna farsi vendetta l'ha sempre detto Sidney Prescott se non l'avessi ucciso avrei detto no qua ora la pantomima del siamo tutti più buoni no ricordiamoci cosa abbia fatto questo e poi c'è quello sguardo fra sorellastre e quindi inizia a coltellarlo già prima l'aveva coltellato ma poi gli dà quell'ultima coltellata perché l'accoltellamento feroce è prima ora che ci ripenso e poi gli dà quell'ultima coltellata distruggendolo totalmente però si sa tornano sempre ma anche qua c'è Kirby c'è Kirby che arriva e pone fine al tutto Kirby che avevano cercato di far passare come assassina ma io me lo immaginavo che non fosse lei l'avrei trovato un po' assurdo quindi che posso dire è un film che ho veramente amato il personaggio di Danny Josh Segarra l'Adrian Chase dell'Hurroverse l'avevamo visto anche nel Pessimo Shulk mi auguro che possa avere maggiore risalto nel futuro Scream che se facessero spero sia sempre diretto dai Radio Silence non fate cazzate però è proprio un personaggio che ad un certo punto esce di scena perché proprio come Derek anche lui non riesce a far sì che la sua ragazza Sam si fidi come Sidney non si fidava di Derek Derek faceva una brutta fine in questo caso lui no lui anzi riuscirà ad arrivare poi con i poliziotti e mi piacerebbe rivederlo perché è proprio un viso carismatico il suo ed è un personaggio che potrebbe diventare importante ai fini della trama ora io presumo che in un settimo capitolo Gale no ma prima o poi uno di questi del cast dovrà morire magari Chad è il nuovo Linus quindi prende coltellate botte dall'inizio alla fine nel primo Scream nel secondo Scream dei Radio Silence secondo me sarà il nuovo Linus e morirà non dico nel settimo ma magari in un ipotetico ottavo però qualcuno ci potrebbe lasciare le penne o forse no come del resto non accadeva in Scream 3 perché dei personaggi storici in Scream 3 a parte all'inizio Cotton Weary io mi riferisco a Sidney Linus Gale non moriva nessuno chi lo sa vediamo fatto sta che già i fan vogliono il settimo capitolo lo voglio anch'io e beh si ironizza sulla presenza di Stu morto non morto anzi sarà importantissima quella televisione per far sì che Ethan muoia schiacciato da essa grazie a Kirby che lo schiaccia con questa televisione quindi questo è il mio parere su Scream 6 che ho trovato meraviglioso non vedo l'ora di rivederlo non vedo l'ora di rigodermelo vi attendo nella sezione commenti così ne possiamo parlare mi piace anche che si parli del complottismo in un periodo storico in cui i complottisti veramente ahimè sono sempre più presenti per quel che riguarda qualsiasi aspetto della realtà delle cose che viviamo quotidianamente e poi si parla anche di quanto secondo me le persone molto spesso piuttosto che aiutare preferiscano fare dei video fateci caso oppure le persone come facilmente si voltino dall'altra parte piuttosto che essere d'aiuto qua la teoria del complotto che è stata poi messa in piedi da Queen è quella di una Sam assassina che in realtà si dice fosse lei l'assassina del film precedente che poi abbia incolpato Ricci e bla 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 quindi in tanti pensano che essendo la figlia di Billy Loomis anche lei debba avere lo stesso sangue quindi insomma questo è il mio parere su Scream grande regia grande fotografia grande montaggio grande interpretazioni e non posso far altro che definirmi soddisfattissimo spero di non avervi di non avervi deluso all'inizio quando ho fatto finta che non mi fosse piaciuto ma lo sapete sono un burlone potrei essere quale ghostface potrei essere secondo voi alla prossima ciao ragazzi ne parliamo ancora e quanto ne parleremo